È troppo facile dire che l'anno scorso, a livello ATP, è stato l'anno di Yannick Sinner come Giovane Italiano 2001. Quest'anno è stato l'anno di Lorenzo Musetti 2002. Non lo dire, mica ti gonfio! È zitto, guarda che ti gonfio di botte! Però un po' lo senti che può esserlo già, nonostante poi ripeti sempre... In telecamera qui non si vede, ma io mi sto toccando fortissimo. Mentre i tuoi sogni futuri, cosa hai in mente? Qual è il tuo sogno? Diventare un giocatore ATP, dare foto, guarda professionista. Qual è il tuo idolo, il tuo giocatore preferito? Djokovic. Come mai proprio Djokovic? Perché mi piace come sta in campo, come gioca, come tu corre. Bravo! Bene! Per quanto riguarda Nardi, guarda, io l'avevo visto giocare l'anno scorso, era venuto a fare da sparring a Stefano una settimana e mi aveva impressionato per la facilità di gioco che ha, quindi penso che sia a livello tennistico uno dei talenti più importanti che abbiamo in Italia. Sappiamo che quello non basta, però sicuramente avere questo tipo di talento è molto molto importante. Grazie a tutti.